Buongiorno, stamattina andiamo all'Expo Ci portiamo i bambini, abbiamo deciso di fare questa mossa veramente azzardatissima Ma non volevamo fare le code, quindi oggi vi porto con me Ciao, alla svegliare tutti Siamo fatta, siamo entrati Si prospettano delle lunghe camminate oggi, camminate tantissimo e smaltiamo un po' Direzione Padiglione Giappone, che dicono che sia uno dei più belli, quindi iniziamo a far subito questo Siamo arrivati al Padiglione Giappone, abbiamo circa un'ora e mezza, due di coda da fare Quindi abbiamo fatto proprio bene a portare i bambini, anche se ci faranno ispirare Ma che se ne frega, cinque ore per andare dentro questo Padiglione è impossibile farle 5, 4, 3, 2, 1 Questo è il Ristorante Futuro Saki izuke, amuse bush, servito come pre-antipasto Hassen, antipasto di stagione Il Giappone è un'app di gaga, è bellissimo, bellissimissimo Benvenuti nella natura e nell'essenza del Kuwait Sono regalato il viaggio di Serana, quindi torneremo forse anche per la terza volta, speriamo Ciao 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no E niente, quindi vi saluto E noi ci vediamo sempre Alla prossima Adesso non so, quando lo pubblicherò Quindi non so se sarà lunedì o mercoledì E niente, quindi un grande bacio Ciao No, 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 no